Sul lungomare il Rimini Summer Pride 2023, il Pride più romantico d'Italia. Il nuovo lungomare sembra lo scenario ideale per la parata e le luci del tramonto fanno il resto. In prima fila, dietro allo striscione principale, il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, promotore della legge contro l'homo transfobia, passata la Camera ma stoppata in Senato. Noi l'abbiamo ripresentata ma la destra non ha intenzione di discuterla né di approvarla. Purtroppo non abbiamo una destra liberale al governo, abbiamo una destra sovranista che ha l'obiettivo di portare l'Italia ai livelli dell'Ungheria e della Polonia. Ma siccome l'Italia è un grande paese, è un paese fondatore dell'Unione Europea, noi non possiamo permettere che resti fanalino di coda in Europa sui diritti e faremo delle battaglie perché non si torni indietro. Però ci sono tutti i timori che questa destra voglia approvare delle leggi che discriminano la guerra.